un po' limitato nei movimenti fiore frate è un fiore è meglio far collo da maglietta che per bozzo a una palla fatti vedi quanto sei bello frate fatti vedi quanto sei bello frate è trap questa cosa vedi? molto trap fottuto da mezzana no va tutto a posto è trap bro solo trap ora mi ricordo che mi hai raccontato i maskin infatti ho visto che se vediamo qua fai voto perché non ancora ne eravamo diventati stavano diventati abbiamo pure il vecchio conio ci avevamo ci avevamo pure il vecchio conio ci avevamo ah 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 io conosco meglio il barterista gli altri barterista è questa la barbina e no ma è proprio il cantante ma però stanno le mie sacchetti vedavamo lui ah questo non lo so ma però stanno tutte in Monterebbe non c'è un cani tra i miei fa una guerra due due Monterebbe non stanno in Italia che però stanno in Italia mi sono visto a Monterebbe e a Monterebbe sono comprati Monterebbe sono non lo so io faccio vicino come cazzo stavo mi chiede se ti porta la paracchetta di lui che te la passa la borsa a meno tempo di musica però eh falla proprio più no 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 poi le metti in là ma in un momento e fai sti gesti poi le prendi così da lui tu pixel si 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 no troppi colori fratello questo dopo con la tuta nera che a me lo pare in pantalone nero si si come siamo? era una piattaforma però mi piace è bella si faccio una bomba sopra un peggiero ok ti guardate le ho mai sempre ho i ho そ i i i